luciano daffiano cantico delle creature di padre francesco domenico stella 1971 basilica di assisi audio video ricerca storica di walter giusti vecchi ricordi del tenore ecclesiastico 85 n marchi luciano signore e signori buona visione è un canto è un canto più da sisi luciano marchi ci ha cantato vieni o signore canto gregoriano si iscriviti al canto gregoriano bravo l'avevi imparato bene finito l'avevi imparato bene è finito? è bello, è bello è cantato poco ho capito non c'è più voce 50 anni fa lo cantavo capito ma io dal 69 89 19 42 anni fa lo cantavo sapevo la musica a casa e vedevi che la cantavo tutta e ti davano tanti sordi anche certo pagavano mangiavamo il convento poi c'era frate che ti sistemavano dai erano bravi gente allora saluta che io chiudo ciao cari ciao tutti ciao belli ciao belli inno alla vita e alla fede sempre meravigliosa cantico delle creature composto da San Francesco di Assisi nel 1224 cantato da Silvano in varie basiliche italiane fino agli anni 80 google tube facebook di Walter Giusti non 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 e non non Grazie a tutti.